oggi con magic cooker prepareremo un piatto tradizionale di una bellissima isola partenopea coniglio all'ischitana dopo averlo lasciato in ammollo con acquaceto sciacquato per bene ed asciugato lo disponiamo in pentola con olio ed aglio copriamo con magic cooker e lo facciamo rosolare per bene da entrambi i lati aggiungiamo timo maggiorana e vino copriamo con magic cooker facciamo sfumare a fiamma viva ora regoliamo di sale e pepe aggiungiamo i pomodori tagliati grossolanamente l'acqua copriamo con magic cooker e facciamo cuocere per circa 40 minuti a fiamma bassa girandolo un paio di volte aggiungiamo basilico scherzettato spegniamo il fuoco e lasciamo in autocottura per 5-6 minuti il coniglio all'ischitana è pronto e con magic cooker una cottura perfetta in pochissimo tempo questa è una delle ricette che troverete all'interno del ricettario 50 ricette di carne bianca merda merda bambini Grazie a tutti